Si chiama Mark Brian, è un uomo etero quindi che ama le donne, ha questo orientamento intimo e pensate che costui indossa tacchi a spillo ma anche goni in ufficio, non utilizza i pantaloni facendo sapere che circa la metà infatti del suo armadio è formato da un abbigliamento femminile eppure la moglie non è insoddisfatta dal fatto che l'uomo indossi questi capi tipicamente femminili è una scelta di vita, o meno uno stile di vita che ha adottato a livello di abbigliamento ed ha ben 63 anni di età ed è di Dallas in Texas negli Stati Uniti d'America come lavoro svolge l'attività di ingegnere di robotica, ha indossato 5 anni fa goni e tacchi alti per regarsi in ufficio è sempre stato interessato a esplorare tutte quelle che sono le varie realtà della moda fin da quando appunto stava al college e poi alla fine accetto di adottare un meglio di indossare scarpe da donna e parlo appunto a ludo, mi riferisco quindi a tacchi a spillo e gonne o comunque abiti piuttosto evidenti nell'ambito femminile ha ricevuto addirittura il supporto da parte dei figli, non soltanto della moglie che hanno rifletto che non hanno difficoltà o problemi a vedere che il padre indossa miniconne, tacchi alti e va addirittura a lavorare in questo modo qua una scelta di vita giustamente presa da lui che non ha problemi di soltanto il video termine è qua, ciao da Leandro, narratore italiano e al prossimo ciao ciao